Questo video riguarda i migliori tre ferri a ricciacapelli. Il vincitore della qualità è il Mocentri Set di Ferro. Il set di ferri a ricciacapelli Mocentri Professional 5 in 1 contiene 5 fusti di ioni intercambiabili. È possibile scegliere la dimensione del morsetto di cui avete bisogno a seconda dell'occasione e della lunghezza dei capelli. Prima posizionare il blocco di sicurezza sul manico sul sblocco, quindi allineare il ferro a ricciacapelli ai punti concavi e convessi sul manico per assicurarsi che il ferro a ricciacapelli sia completamente inserito nella maniglia. Set di ferri a ricciacapelli 5 in 1 con due impostazioni di temperatura. La prima temperatura è di 180 gradi centigradi e la seconda è di 230 gradi centigradi. Puoi scegliere la temperatura ideale per il tuo tipo di capelli unico. Il design antiscottatura e il pulsante di blocco aperto sono più facili da inserire e rimuovere tutti i fusti e fissarli più saldamente. Il set di bigodini 5 in 1 è un ottimo regalo per tua figlia, moglie e fidanzata. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Bigalter Ferro a ricciacapelli. L'ultimo ferro a ricciacapelli wireless. Addio al design disordinato del cavo. Con il sistema di arricciatura automatico, può essere riscaldato rapidamente in un minuto e arricciato rapidamente con un solo pulsante. La superficie del ferro a ricciacapelli automatico è ricca di nanoargento, rivestimento in ceramica e tormalina. Il rivestimento in nanoargento può inibire la crescita dei batteri dei capelli e proteggere la salute dei capelli. Ferro a ricciacapelli ha una batteria integrata ad alta capacità da 5.000 ma appunto può essere ricaricato tramite USB. Può essere caricato per 3-3.5 ore e funzionare per 45 a 60 minuti. Rispetto ai tradizionali ferri a ricciacapelli, le nuove pinze per arricciacapelli hanno una doppia camera per arricciacapelli termoisolante che protegge le tue mani dal calore superficiale. Il ferro a ricciacapelli è di piccole dimensioni e il suo design wireless lo rende facile da usare o trasportare nella vita quotidiana. Il vincitore del premio è il Gianelove ferro a ricciacapelli. Il set di bigodini include 6 bigodini di diverse dimensioni. Il ferro a ricciacapelli intercambiabile 6 in 1 offre 6 diversi barili in ceramica di diverse forme e dimensioni. Ferro a ricciacapelli con diversi accessori con display LCD. Il ferro per capelli può essere impostato su 180 grado Celsius in 20 secondi. Temperatura regolabile 80 grado Celsius-230 grado Celsius può soddisfare le diverse esigenze di diversi tipi di capelli. Il ferro a ricciacapelli è realizzato in ceramica tormalina professionale per garantire che i tuoi capelli rimangano sani e lisci tutto il giorno, con ricci lucenti. Il manico del ferro a ricciacapelli è antiscivolo, completamente isolato, sicuro e confortevole. L'arricciacapelli utilizza un cavo di 2M e può essere ruotato di 360 per evitare che si aggroviglino. Ferro a ricciacapelli piccoli riccioli set di ricci grandi con guanto resistente al calore. Un regalo ideale e perfetto per i tuoi amici, amanti a Natale, San Valentino e compleanni. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.